Amici e amiche appassionati di motori, benvenuti! Mettetevi pure comodi, state per assistere alla recensione di Gran Turismo 7, ultimo capitolo di una serie storica che, dopo la parentesi competitiva di GT Sport, ritorna alle origini portando su PlayStation 4 e PS5 la sua formula più classica e amata. Quello che vedrete è un tuffo nel passato, ma composto dalla tecnologia più avanzata e pensato anche per i giocatori più giovani. Potremmo dire soprattutto per loro. Seguitaci dunque mentre vi spieghiamo in che modo Polifony Digital ha creato un prodotto iniziatico perfetto, in grado di accompagnare con estrema efficacia nel mondo dell'automobilismo davvero chiunque, anche i meno esperti. Come i suoi illustri predecessori, Gran Turismo 7 ruota attorno a una mappa principale che racchiude tutti i contenuti in una sola schermata. È uno splendido angolo di mondo immaginario, dove si mescolano elementi asiatici, mediterranei americani. Al centro di questa perfetta cartolina, nel verde di un docile bosco europeo, sorge un rinomato ed elegante caffè, il cuore della nuova modalità carriera. Non si tratta di una semplice schermata. Come ogni funzione di GT7, il locale è perfettamente renderizzato, con un sistema di illuminazione dinamico e la possibilità di vedere all'esterno la vettura che staremo utilizzando in quel momento. Ma se fuori dalla pista siamo ricchi e amatori che parlano con professionisti e leggende del settore, quando siamo al volante le cose cambiano, anche se non nel modo che state pensando. In Gran Turismo 7 non si è dei piloti in erba, ma proprio dei giocatori di Gran Turismo alle prese con la campagna di Gran Turismo. Prima di molte gare o negli esami per le diverse patenti necessarie a correre a livelli superiori, ci si interfaccia spesso con campioni internazionali e locali di GT Sport, persone vere con un nome, un cognome e spesso buoni consigli. Attraverso il Gran Turismo Cafè si ha accesso a una carta delle competizioni, nel senso letterale del termine, che propone più di 90 gare divise tra eventi singoli e campionati. Queste si alternano di tanto in tanto con semplici richieste dedicate alle nuove funzioni che si andranno a sbloccare, come fare una foto nella modalità scapes o cambiare per la prima volta l'olio della propria vettura. Le gare andranno a popolare quello che sulla mappa è rappresentato come una sorta di Colosseo, dove si trovano tutti i circuiti e relative competizioni. Se non si tratta di un campionato, la sfida è solitamente composta da tre gare singole che permettono di sbloccare altrettante vetture a tema. Si inizia con le auto giapponesi compatte, si prosegue con le hot hatch europee e così via, salendo lentamente di classe e velocità. Una volta collezionate le tre auto, queste verranno descritte nel dettaglio attraverso cegni storici dall'esperto di turno, solitamente una figura legata all'industria automobilistica. Anche le vetture con le quali si visita il caffè potranno attirare l'attenzione dell'esperta clientela del locale. Il processo di crescita è molto graduale. Dopo le prime vittorie si accede al concessionario di auto nuove, oltre a quello dedicato alle vetture usate. Successivamente si sbloccano le prime modifiche sport per centraline, marmitte, filtri e freni più performanti, oltre ai diversi treni di gomme. Ci vorrà qualche ora prima di accedere alle parti meccaniche più intriganti e maggior dedizione per arrivare a sbloccare il tuning estremo. Queste parti sono necessarie perché, come nella realtà, certe modifiche sono permanenti e nel corso del gioco si potrebbe aver bisogno della stessa vettura ma di una categoria differente, o costruita attorno a un altro tipo di velocità e bilanciamenti. Ancora qualche vittoria e sulla mappa spunterà anche GTA Auto, un'officina vista mare dove far manutenzione alle vetture e personalizzare la carrozzeria, la tuta e il casco del pilota. Ben presto le sfide del caffè o le nuove gare che saranno spuntate tra i circuiti mondiali inizieranno a richiedere per l'iscrizione determinate patenti, immancabili anche in questo Gran Turismo e sempre meglio concepite, spiegate e premiate. Continuando a giocare ammassando auto in garage verrà sbloccata anche la modalità missioni, da portare a termine in sei diverse ambientazioni che faranno da scenario a sfide già viste in passato, ma non meno divertenti. I contenuti spuntano di continuo, tutto è super veloce e la colonna sonora è composta da un numero esagerato di pezzi. Peccato che ancora una volta ci si ritrovi davanti a delle scelte di design al quanto bislac e che fanno male in un prodotto che aveva tutte le carte in regola per fare straordinariamente bene. Ogni gara, per esempio, ha delle caratteristiche e delle regole precise ed è contrassegnata da un valore che indica la potenza media delle vetture partecipanti, in modo da far capire all'utente quante possibilità ha di vincere al netto delle sue abilità alla guida. Il problema è che il valore medio è utile, ma ce ne vorrebbe anche uno massimo per evitare di scendere in pista con un bolide che riduca in cenere ogni avversario dopo un solo giro. È vero che questo è un problema comune di tutti i Gran Turismo classici e che potenziare troppo una vettura può renderla anche molto difficile da tenere in pista, ma visto che le vetture dell'intelligenza artificiale non vengono scalate in modo da colmare il gap con il giocatore, mettere dei paletti alla potenza dei veicoli utilizzati avrebbe fatto bene al bilanciamento generale. Tra l'altro un limite è presente nella modalità online sport, dove tra l'altro sono attive anche diverse penalità che impediscono all'utente di sbattere gli avversari fuori pista o tagliare le curve. È vero, ci sono delle gare hot chili con regole più stringenti e un'IA più aggressiva, ma sono una minoranza. Forse sarebbe stato meglio creare una difficoltà apposita, anche perché la selezione iniziale del livello di sfida non sembra avere alcun impatto sul gameplay della carriera. Qui le gare con gli avversari più aggressivi saranno solo contrassegnate da un numero crescente di peperoncini. A peggiorare le cose ci si aggiunge l'ormai consueta necessità di regalare nuove vetture al giocatore pensando di fargli un favore, ma rovinandogli di fatto il piacere di sudarsela fino in fondo. Ma almeno qui i regali non sono così invasivi come in altri giochi del genere. Tutto questo non vuol dire che non ci sia un elemento di sfida. La progressione resta piacevole anche grazie a un'IA piuttosto basilare, ma che ha fatto dei passi in avanti. Durante la carriera non è però possibile cambiare praticamente nulla della difficoltà, se non scegliendo una gara personalizzata dove alcune opzioni, come quelle relative ai danni meccanici, non forniscono alcun feedback ai piloti. Non abbiamo problemi a rinunciare ai danni estetici, ma i danni meccanici non possono mancare, specialmente se esistono come opzione, ma una volta attivati non sembrano portare a nulla di radicale. Nella carriera le cose inizieranno così a farsi davvero impegnative solo verso la fine, quando il gioco avrà imboccato il rettilineo finale. Le competizioni vere si trovano quindi ancora una volta nella già citata modalità online sport, che in Gran Turismo 7 rappresenta di fatto l'endgame. Entrare in sport fa capire subito che la carriera non è stata altro che un tutorial, un lungo percorso per arrivare a competere online ad alti livelli. A quel punto diventerà anche l'unica vera fonte di crediti, a patto di non volerne acquistare attraverso microtransazioni. Per chi cerca un approccio più casual c'è poi il multiplayer tradizionale, ricco di opzioni e molto ben organizzato con le sue lobby dinamiche. Il modello di guida ha fatto passi in avanti nell'aerodinamica, nella distribuzione del peso della vettura e nella zerare la scivolosità innaturale presente in GT Sport. Al volante Gran Turismo 7 è davvero il miglior Gran Turismo possibile, anche per merito di vetture ben diversificate e condizioni meteorologiche finalmente all'altezza delle aspettative. È fantastico per esempio capire l'intensità della pioggia nel comportamento della vettura, nel rumore e nelle vibrazioni del DualSense, sfruttato divinamente e con effetti di altissima definizione. Anche il vento cambia la scenografia, con nuvoloni di polvere o di pneumatici a limite che si diraderanno lentamente verso la direzione in cui soffia. Ma il sistema non sembra prendere in considerazione eventuale sporco sulla pista, ben visibile graficamente ma incapace di influire sia sulle vibrazioni sia sul modello di guida. Il comparto grafico è migliorato in modo evidente rispetto ai primi trailer. Le vetture sono realizzate in modo impeccabile e sono nettamente le migliori in circolazione. È stato fatto un ottimo lavoro anche a bordo pista, con tanti elementi in movimento e una più che buona qualità di dettaglio generale. Il gioco risparmia sull'orizzonte, anche se a volte questo orizzonte si fa particolarmente vicino, con alcuni macro dettagli inaccettabili in un gioco tanto curato ed elegante. Anche le nuvole, generate attraverso la matematica e dati atmosferici reali, non convincono del tutto. Il colpo d'occhio rimane sempre garantito e là dove conta davvero Gran Turismo 7 è puro spettacolo. Il ray tracing è un extra al quale non si poteva rinunciare, ma per non danneggiare il gameplay è attivabile solo in quei momenti e modalità nei quali non si è direttamente alla guida, replay, scene ed intermezzo e fasi pre-gara. Lo stacco si nota graficamente, ma il più delle volte soprattutto nel framerate. Anche se con degli evidenti limiti era dai tempi di PlayStation 2 che non vedevamo un Gran Turismo tanto convincente. Con il pad o con il volante, guidare è un sogno. Anche la carriera è ben congegnata, peccato solo che non sia personalizzabile in alcun modo e che regali macchine così frequentemente. Tutto nel complesso e superlativo, nonostante qualche scivolone grafico e un'IA che resta unica e insopportabile zavorra. Giocare a Gran Turismo 7 rimane comunque un pacchetto irresistibile per ogni appassionato di motori, che garantisce l'accesso a un club esclusivo dove si può discutere di motori, scambiarsi livree e gareggiare, insieme a milioni di altri appassionati. Voi che cosa ne pensate? Sfrutterete l'occasione per tornare alla guida il 4 marzo 2022, quando il gioco uscirà su PS4 e PS5? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali. A cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche, per non perdervi video come quelli che vedete ora qui accanto. Grazie e alla prossima!